Avendo ricevuto un provvedimento interdittivo per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale da parte dell'autorità giudiziaria, ritengo opportuno, anche se non contemplato nel provvedimento stesso, sospendermi dalla carica di direttore responsabile delle testate telebari, radiobari e teletrani. Tale decisione è motivata dalla necessità di garantire alle mie emittenti di continuare a svolgere, come hanno fatto da oltre 40 anni, il proprio ruolo nell'informazione locale, senza ombra alcuna. Confido nell'attività della magistratura perché la verità vince sempre e vincerà anche in questa occasione.